Mi sento bene, devo dire la verità. Sono molto contento di essere qui. Per me è molto importante perché quando ho saputo che c'era la possibilità di venire ad Avellino, ho stoppato anche altre cose per dare priorità a questa opportunità, che per me era molto importante e rappresenta veramente un'opportunità. Io penso che la concorrenza faccia bene all'interno di una squadra e ovviamente deve essere una concorrenza positiva. Io la penso così, mi è già capitato in passato di giocare con portieri molto forti come Anthony, però questo, dico la verità, per me non è un problema. C'è massimo rispetto tra noi, stiamo lavorando secondo me bene, stiamo trovando anche dei punti di incontro sulle metodologie di lavoro e poi c'è un allenatore che giustamente deve fare le sue scelte e noi siamo qua per accettarle. Il pararigori diciamo che è un po' romanzata dai, perché devo dire la verità, sono stato fortunato perché ho parato due rigori a due giocatori molto forti come Antenucci e Brunori, quindi diciamo che risuona di più magari. Come cose da migliorare ce ne sono tante perché comunque ho 26 anni e poi c'è sempre tempo secondo me per migliorare nel nostro ruolo. Mi definisco un portiere con buona personalità, con buona padronanza, ovviamente però ci sono tanti aspetti, come dicevo prima, che dobbiamo lavorare, dobbiamo migliorare, curare i dettagli per cercare di portarsi sempre a un livello successivo. Per quanto riguarda Donnarumma sì, ho avuto il piacere e la fortuna di incontrarlo quando era ragazzino come me, nelle giovanili del Milan e stiamo parlando di un fenomeno assoluto e si vedeva già a quell'età. Per quanto mi riguarda è senza dubbio il miglior portiere italiano e gli auguro ogni meglio. Sappiamo tutti quali sono le aspettative di quest'anno, sono state rese chiare abbondantemente. Per noi non deve essere un problema ma deve essere uno stimolo, cercare di lavorare con queste pressioni e cercare di trasformare questa energia e portarci tutti dietro per andare a conquistare quello che è il nostro obiettivo. Io sono andato via a 14 anni, ho giocato più al sud che al nord, sono stato a Palermo, sono stato a Cosenza, ora vengo qua ad Avellino, ho giocato anche con Michele Rigione che mi ha già spiegato abbondantemente tante cose di questa piazza e anche questo ha inciso sulla mia volontà di venire qui in fase di trattativa. Con il mister abbiamo iniziato da una settimana quindi ci stiamo anche comunque ancora conoscendo, noi stiamo cercando di capire quello che ci chiede lui, lui magari sta vedendo quali sono le nostre caratteristiche, su cosa possiamo lavorare meglio. Io vi dico la mia impressione, mi sembra un professionista molto meticoloso che cura molti dettagli e secondo me è molto importante per il nostro ruolo andare alla ricerca del migliorarsi sempre, andare a guardare tra virgolette il cosiddetto pelo nell'uovo. Poi lavoriamo comunque con molta intensità e questo comunque a me piace. Si potevano fare anche scelte più comode, però quello che mi ha spinto comunque è la volontà di mettermi in gioco. Come ho detto Anthony è un grande portiere che ha una grande carriera, è un grande professionista e ci stiamo anche comunque conoscendo anche dal punto di vista umano. Come dici tu la concorrenza fa bene, io penso che questo sia la base di ogni squadra vincente. Quello che mi ha spinto a venire qui comunque è il progetto che c'è, l'ambizione, la piazza, comunque la voglia di vincere, di fare bene. Questo sicuramente ha avuto un peso importante sulla mia decisione. Siamo arrivati da poco, noi nuovi, quindi comunque ancora magari una fase di conoscenza. Però quello che posso dire è che ho trovato un gruppo sano, un gruppo allegro, un gruppo che ha voglia di lavorare. Questa è la cosa principale, ho visto grande propensione al lavoro da parte di tutti, grande voglia. Comunque anche il mister negli allenamenti ci tiene molto all'intensità, al lavoro in campo e quindi io ho trovato tutti questi aspetti molto positivi. Ma ovviamente tutti mi hanno parlato di questa piazza con grande calore, però comunque anche l'anno scorso buttando l'occhio, seguendo lo stadio, la piazza, il tifo. È comunque una piazza storica che c'è grande fame, c'è grande voglia di fare bene, di tornare nel contesto che secondo me gli appartiene. E ci siamo detti un po' questo, anche con Michele quando magari ero in fase di trattativa, mi ha spiegato un po' nei dettagli le dinamiche, tutto il progetto che c'è. E questo comunque ha avuto anche il suo peso, ecco. Dal valido? È la stessa cosa, mi ha detto vai, vai subito.